Benvenuti ai miei canali, sono Amal e oggi faccio la sfilata di moda per voi perché non ho assolutamente nulla da fare E sera, ho già pulito casa, ho sistemato tutto, ho portato la mia bimba fuori e gli ho dato la pappa Ho fatto tutto, quindi ho chiesto amici per poter uscire, nessuno mi ha proprio calcolata E quindi ho detto cosa facciamo? Facciamo sta sfilata con la roba nera che avevo promesso Spero che vi piace, se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità L'ho fatto a lungo perché a largo veramente non riuscivo, devo stare praticamente in camera da letto per far vedere l'outfit E quindi niente, buona visione! Ecco, ho rovinato il rossetto Esattamente Allora, la camicia da Zara l'ho comprata in saldo con 7 euro I pantaloni sono della Guess, anche questi l'ho presi dal saldo con 30 euro La borsa l'ho comprata dal mercato con 7 euro E le scarpe, queste cose stupende e meravigliose L'ho presi da prima donna con 17,90 euro E quindi vedete un look stupendo, super elegante, mi piace tantissimo Che può essere come per andare a fare un aperitivo, una cena, è un primo appuntamento Se capita, Cali non è d'accordo Vado col secondo look Ho scelto questo vestito per abbinare comunque con la borsa verde e le scarpe verdi Guarda che cosa, spettacolare, spettacolare, bellissimo, adoro Stupendo, stupendo, stupendo La cosa più bella che è questo vestito di Zara L'ho pagato 6 euro E vi faccio vedere il segreto Che puoi indossarlo anche così Però, così si indossa Cammina come un pinguino Infatti, non ce la facciamo a camminare Allora, lo tiro leggermente più su E ha questo tessuto rugoso E quindi non si vede Camufla i difetti Se avete un po' di pancina, eccetera Camufla abbastanza i difetti Bello, 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 bello Soddisfazione 6 euro da Zara La borsa dal mercato con 7 euro E le scarpe con 17,90 da prima donna Ripeto E il terzo look Eccomi Questo vestito L'ho preso da Mango Mi avvicino per vedere questo effetto Stupendo Stupendo Adoro L'ho preso da Mango Ce l'ho da 12 anni Questo vestito L'ho indossato veramente poche volte Adoro L'ho pagato meno di 30 euro Sicuramente Mi ricordo perfettamente Che l'ho ordinato da Mango Outlet Ma vi giuro che più di 12 anni Che c'è questo vestito Stupendo L'ho indossato L'ho indossato con queste scarpe Vettiginose Della prima donna Saranno almeno 5 anni Che non li metto queste scarpe Fanno un male cane Però sono stupende E la borsa Della Guess Anche questa qua L'avevo comprata Dai saldi Perché c'è questi angoli neri Quindi camuflare un po' Non tutto nero Non mi piace L'ho presa anche questa Solo in circa 30 euro Più o meno Ma ce l'ho anche questa qua Da più di 10 anni Anche questa Bello Vi piace il look? Bellissimo eh? Stupendo Porca figura Bellissimo Mi piace tantissimo Eccomi Questa qua è una tuta Stupenda Ha un aggancio Che si mette qua Però io l'ho tolto via Mi sento più comoda Così Stupenda Aperta Lateralmente E voglio proprio Vedere Se indovinate Quanto costa E quanto l'ho pagata E dove l'ho comprata Qua in Spagna La tuta si chiama Mono E questo Mono Come vedete Mi fa Una Paglia La figura L'ho pagato 12 euro Del mercato 12 euro Dal mercato L'anno scorso Quando sono andata In Italia La borsa E della Gales Anche questa qua L'avevo presa In saldi Io compro tutto Tutto saldo Tutto 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 Difficile che compro qualcosa A prezzo pieno E A prezzo pieno Che mi piace tanto Ma deve piacermi da morire Che ho soldi per comprarla Perché se no aspetto Perché se no aspetto Che saldi Anche questa L'avevo comprata A meno di 30 euro Invece i sandali Questi Qui Aspetta Qua Stupende Bellissimo Voi lo pagate 15 euro Da scarpe scarpe Questa volta Quando sono andata In Italia Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Un sacco Poi questa Cosa Un dueleggiante Per ballare È una favola Infatti Da Non lo indosso Il prossimo Giro Che faccio Lo metto E Mi piace Da morire Se vi piace Fatemelo sapere Invece questo L'ho preso Da prima donna C'è l'apertura laterale L'unico difetto Che c'ha Che ha la gonna Troppo corta E quindi Io dovrei Mettere sotto Dei pantaloncini Un po' Sotto Che sia Bello grande Amore mio Che c'è principe Sa Che sia Molto alto Perché Si muove E veramente Mi fa vedere L'anima Quindi preferisco Mettere qualcosa sotto Molto bello Davvero Molto bello Mi piace La parte davanti Mi piace La parte dietro L'ho preso Dalla prima donna E costava 50 euro L'ho pagato 15 euro 16 euro Qualcosa del genere Non è che l'ho pagato tanto Allora L'ho chiuso Da qua davanti Ma mi sa che Dovrei chiuderlo Un altro pochino Li do Li do un altro punto Qua davanti Perché C'è questo Quello è stupendo Mi piace Però li do un tocco In più E l'avevo stretto Perché un ES Mi stava Li devo dare Un tocco in più L'avevo stretto Perché mi stava Leggermente largo Adesso mi sta Veramente bene Però direi che Troppo bello Sto vestito Troppo 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 Bello Per portarlo a ballare Con questo Io non ci posso Parlare Perché Di scomodo Dalla parte sopra Questo qua Per un'uscita Una cena Per andare In discoteca normale O Perché Volendo Anche ballando Volendo Io Per ballare Li posso mettere Aspetta eh Volendo Posso fare Tipo una cosa Del genere Non si vede Niente Oh Vedi Cado Già Mi roppo E fargli qualcosa Del genere E alzarlo Un pochettino La lunghezza E mettere Tipo una Una spilletta Qualcosa Di qua E alzarle Un po' La lunghezza Per poter Ballare Ballare Volendo Invece La borsa Ho scelto La borsa rossa Questo vestito E di Foucault E Questa qua Mi l'aveva regalata Mia sorella Non so Sarà fake Sicuro Però Non so Quanto Quanto l'ho pagata Invece Le scarpe I sandali Come vedete Che belle Che sono Che belle Che belle Che belle Mi avvicino Se riuscite a vedere Stupendi L'ho presi da Il pittarello L'ho pagata anche questi Sul 15 euro Io sono una ragazza Che cerca Occasioni Dappertutto Infatti la gente Mi dice Ma come fai A trovarli A questi prezzi Perché io cerco Guardo Cerco E cerco E cerco E guardo E vado E continuo A guardare Se trovo qualcosa Che mi piace Che ha un buon prezzo Io me la prendo Non compro tantissimo Perché ho già finito Con l'acquisti Fino all'anno prossimo Bello 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 Mi piace Bello Bello Grazie a tutti